L'incontro fu virtualmente su Facebook, non so perché, e vi tanta stima di te, e fu così che cominciamo a chattare i solidi auguri di buonasera e mattino, ma sentivo già un turbamento, aspettavo sempre con ansia il tuo messaggio, e tutto il giorno speravo che mi chiamassi per poter sentire la tua voce. Ecco il telefono squilla, io lo desiderò da così tanto tempo, Pronto, la tua voce ora sento, è tanto bello parlare con te. Cara, è un momento assai importante, il cuore mi batte forte a milla l'ora, Mi sembra di ritornare come un bambino, che per la prima volta si innamora. Oh, vorrei poterti essere vicino, e guardare il mare attraverso i tuoi occhi, E poi, vorrei prenderti per mano, e noi due soli, passeggiare sulla sabbia, vorrei abbracciarti stretta sul mio cuore. Per poterti sussurrare tutto il mio amore, Vorrei anche baciare le tue labbra, Per sentire il profumo del tuo respiro. Grazie a tutti! Grazie a tutti.